ed eccoci al nostro consueto appuntamento con Biagio Mannino, non può mancare assolutamente anche oggi con il punto fondamentale dove affrontiamo tanti temi. Buongiorno Biagio, ben ritrovato. Buongiorno Graziano, buongiorno a te, una luce piuttosto scura questa mattina. Si incomincia con un periodo un po' più autunnale, anche se un po' anticipato naturalmente, però insomma così. Aiuta il tumore ad essere più allegro. Sì, infatti, infatti. Allora Biagio, credo che il tema di oggi sarà quello delle prossime settimane perché lentamente ma inesorabilmente ci stiamo avvicinando a queste elezioni molto particolari, diverse rispetto a tante altre, non ci siamo forse mai trovati in una sorta di periodo elettorale nel periodo estivo, insomma, almeno io non lo ricordo a memoria. E si succedono ovviamente dichiarazioni e altre cose. Come sta procedendo, secondo te, questa campagna elettorale in previsione del voto del 25 settembre? È una campagna elettorale che sta andando come poi avevamo anche previsto durante il periodo maggiormente difficile, quello non solo della pandemia ma anche delle restrizioni. Perché dicevamo allora che i partiti si erano sostanzialmente annullati di fronte alla forza del governo Draghi. Draghi in quel momento storico riusciva a portare decreti, a farli passare anche se necessitava molto spesso del voto di fiducia, andando poi sostanzialmente ad escludere quella che è la componente basilare del sistema costituzionale italiano, ovvero quella capacità parlamentare proprio nell'esprimere quel potere che viene sancito proprio dalla Costituzione che è il potere legislativo. E ovviamente i partiti in quel momento completamente annullati nella loro presenza e contemporaneamente tutti tranne uno facenti parte di una maggioranza che approvava un governo che ancora oggi lascia particolarmente perplessi. Ebbene tutto questo faceva sì che in previsione per quella che sarebbe stata una campagna elettorale in occasione delle elezioni, però diciamo che in quel momento le voci non pensavano al mese di settembre, ma in ogni caso si riteneva che ci sarebbe stata una campagna elettorale che improvvisamente avrebbe portato tutti un po' contro tutti, proprio per poter cercare di mettere da parte quanto era stato. E quel quanto era stato era proprio l'appoggio al governo Draghi tutti assieme, soprattutto nella direzione di quei decreti che prendevano delle direzioni estremamente discutibili, come detto. Secondo te proprio questo periodo particolare e anomalo per una campagna elettorale può in qualche maniera influire, in senso anche forse negativo, perché ci rendiamo conto che è una campagna diversa. Ieri si parlava addirittura che non esistono i classici cartelloni elettorali nelle città, praticamente stanno mancando un po' dappertutto. Insomma c'è una sorta di obbligo in questa preelezione secondo te? È una campagna elettorale che sembra essere già stanca ancora fin dal momento in cui doveva iniziare, perché i messaggi che noi stiamo ascoltando nel sistema mediatico sono quelli che poi alla fine danno una sensazione di poca consistenza. Sono messaggi questi portati dalla comunicazione politica che danno un'idea di voler tentare di mettere da parte ciò che è stato e di far pensare ai problemi del presente come se questi problemi del presente non avessero delle cause. Tutto questo va poi alla fine a diventare particolarmente debole nell'ambito della comunicazione politica, anche perché imputare responsabilità per quanto riguarda la situazione attuale è alquanto difficile poiché tutti quanti facevano parte sostanzialmente della stessa maggioranza. L'assenza, come stiamo notando, di cartellonistica ma anche di quella presenza nelle piazze sostanzialmente, lascia un po' il tempo anche a quello che ormai è diventata la piazza per definizione per portare la comunicazione politica, ovvero rappresentato soprattutto dagli studi televisivi, ma mette in evidenza comunque un ulteriore aspetto, quello dell'allontanamento. Dell'allontanamento sempre maggiore della figura del rappresentante da quella del rappresentato, perché se noi osserviamo tutto il meccanismo oggi della politica rispetto a quello di una volta, una volta c'erano le sezioni di partito dove ci si incontrava, dove ci si confrontava, dove si sviluppava un dibattito e le idee che scaturivano da quei dibattiti poi venivano portate più avanti e poi c'erano le piazze sempre gremite, però poi con il tempo quelle piazze, quelle grandi piazze diventavano sempre più piccole, più piccole, più piccole, fino a ridursi magari a qualche sala di albergo, qualche sala di qualche struttura e fino ad arrivare a quella che è oggi una comunicazione politica televisiva, una comunicazione politica che fa sicuramente uso dei social, ma soprattutto una comunicazione politica che non accetta più il contraddittorio se vogliamo, perché mandando queste conferenze stampa improvvisate, fai da te nel sistema dei social, ebbene si evitano anche e soprattutto le domande e in questo momento storico le domande sono molte, perché sì si può parlare del futuro ma non bisogna assolutamente dimenticare il passato. Sicuramente una disaffezione dovuta anche agli ultimi anni, dove appunto la politica in qualche maniera è sparita forse dalla nostra quotidianità, ci rendiamo conto che forse quei partiti che non hanno legiferato negli ultimi due anni, non lo hanno fatto perché non hanno né la forza e il ruolo, quindi sono un po' delegittimati. Qualcuno diceva che non andando a votare in qualche maniera si va a delegittimare il politico. Credi che il popolo dell'astensionismo sarà molto forte in questa tornata elettorale? Ecco, questa è una domanda molto molto importante, una domanda interessante, perché l'astensionismo di cui si parla poco, pochissimo se non addirittura niente, invece è un fenomeno crescente, un fenomeno crescente che abbiamo già visto nell'ultimo anno in tante varie e diverse occasioni elettorali che si sta mostrando in modo importante in prospettiva. Come sarà in questa occasione? Al momento non lo sappiamo, ma stanno cominciando ad apparire sul panorama della comunicazione, dei social e di tanto altro ancora che porta, che veicola il messaggio, anche dei movimenti che invitano proprio allo stesso astensionismo, come l'ultima forma di effettiva partecipazione che può sembrare un controsenso, ma nelle valutazioni quando esiste uno distacco tra il rappresentante e il rappresentato, a quel punto lì il rappresentato decide di non partecipare più, ma non perché si sia disaffezionato dal contesto della politica, perché non voglia partecipare, perché non voglia portare quel famoso ed importante diritto-dovere rappresentato dal voto, ma proprio perché avverte che tutto questo comincia ad avere anche una sorta di sensazione di non sapere più dove andare, perché quanto emerge anche dalla stessa campagna politica è che poi alla fine si ritornerà al punto di partenza e si è concluso il governo Draghi. Sono stati un anno e mezzo particolarmente molto difficili, eppure si insiste nella volontà di andare a presentare quanti risultati importanti siano stati portati da questo governo, quando invece, lo sappiamo bene, ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo, si parla sempre di più di difficoltà che dovremo affrontare a breve periodo e qualcuno comincia a dire che l'unica alternativa possibile che possa esserci è un ritorno dello stesso Draghi. Ma allora l'elettore che già dal 2018 si era ritrovato completamente spaisato, che ha visto tutte queste maggioranze fatte da tutti, questi cambi di politica, di alleanze e di tutto si ritrova a dover partecipare a una competizione elettorale dove nella stessa campagna elettorale gli dicono che tutto quanto potrebbe poi tornare nella stessa identica maniera. La confusione è tanta, forse sono proprio i partiti ad avere in questo momento un grande bisogno di ritrovare se stessi in una situazione che richiede la presenza dei partiti, che richiede la presenza però di partiti che sappiano fare i partiti come nei tempi passati. Per fare i partiti ci vogliono i politici e molti in questo periodo stanno dicendo ma dove sono finiti i veri politici, quelli insomma con la P maiuscola, perché evidentemente se c'è stata questa tendenza al ribasso dal punto di vista della specificità politica e partitica evidentemente c'è una mancanza di uomini che possano prendere in mano veramente le soldi di questo paese. Se più che una mancanza di uomini in realtà gli uomini ci sono però non entrano in scena ed è anche comprensibile perché da Tangentopoli in poi si è venuto a formare una classe politica che in un modo o nell'altro poi ha portato anche, ha mostrato come quel principio alla quale si ispirava che era l'essere giovani fosse sufficiente a poter portare delle idee nuove rispetto alla componente precedente particolarmente anziana, ma ci si è scontrati poi con la realtà non occorre essere giovani, non occorre essere vecchi, occorre essere preparati e con una visione effettiva per quanto riguarda proprio anche la conoscenza delle regole del gioco e in questo caso le regole del gioco sono rappresentate dalla Costituzione che viene citata a volte e a volte invece viene completamente messa da parte. La nostra Costituzione è estremamente chiara, la nostra Costituzione è estremamente importante per quanto riguarda non solo i principi, i valori, ma anche su come mantenere questi principi, questi valori e i diritti dei cittadini. Ora ci si trova in una situazione in cui molto spesso anche l'inesperienza si è scontrata con la realtà e l'inesperienza diventa incapacità di far fronte a un sistema che lo abbiamo detto tante volte non è più un sistema basato sulle problematiche interne, ma bisogna ragionare in un sistema globale e quando si ragiona in un sistema globale è importante anche saper dire no e invece di dire sempre di sì, perché a volte il no diventa un elemento fondamentale proprio per la tutela della propria realtà, dei propri diritti, del proprio contesto nazionale. Un'ultima cosa, io ho delle sensazioni, anche leggendo un po' le notizie sia sul fronte italiano ma anche a livello internazionale, si dice sempre che l'autunno diventa caldo, quest'anno sarà un po' meno caldo, probabilmente grazie alle bollette e a quant'altro ovviamente ci stanno preparando. Quando si parla di autunni caldi si parla comunque di problemi sociali che quest'anno sono sicuramente acuiti e si parla insomma di movimenti, di piazza eccetera. I segnali che arrivano un po' da tutta Europa, vedi soprattutto Gran Bretagna in queste ultime ore dove si parla che ci si prepara, uno scontro sociale eccetera. Ecco, tutto questo è reale, è sicuro, è palpabile e sicuramente può capitare e siamo quasi convinti che capiterà anche nel nostro paese? Questo è difficile da poter prevedere anche perché gli scontri sociali necessitano, per poter poi andare a produrre gli effetti di cui tu parlavi, necessitano anche di basi solide alle spalle. Nel senso che lo scontro sociale che è finalizzato all'ottenimento anche di un cambiamento effettivo di determinate situazioni ha bisogno di una linea guida. Contrariamente le manifestazioni diventano un'espressione di protesta, che sicuramente la protesta è importante ma deve essere recepita da chi è in grado di fare poi definitivamente qualcosa. Perché noi abbiamo assistito dal mese di ottobre, ma anche precedentemente, però soprattutto dal mese di ottobre del 2021 a tante manifestazioni, a tante forme di protesta nella direzione dell'opposizione a quanto succedeva in nome di quelle restrizioni che arrivavano nella nostra vita, nella nostra realtà. Eppure tutte quelle proteste portate in tantissime città italiane, ovviamente noi siamo a Trieste e ricordiamo i tanti movimenti a Trieste, non hanno poi portato concretamente ad ottenere assolutamente niente, proprio perché c'è stata un'assenza di dialogo. La capacità di governare è questa, non è imporre le situazioni, ma dialogare e appunto recepire le situazioni che si stanno vivendo. Se le proteste nascono vuol dire che ci sono delle situazioni che le fanno nascere, vuol dire che c'è un malessere, vuol dire che ci sono delle cause che hanno provocato quel malessere. È inutile, anche in questo caso, ritornando la campagna elettorale, far finta che tutto ciò che c'è stato non sia stato e andare ad arrampicarsi sugli specchi per cercare di far sembrare che la realtà difficile che stiamo vivendo dipenda da non ben chiare situazioni, soprattutto imputandole a nemici esterni. La realtà della situazione andrebbe affrontata con una maggiore attenzione proprio nella consapevolezza, perché qui nuovamente il cittadino italiano sta guardando e sta attendendo, sta guardando con maggior interesse rispetto al solito a una campagna elettorale che non gli sta dando alcun tipo di risposta e non sta dando alcun tipo di soddisfazione. Ed ecco che quel problema che tu dicevi prima, da un lato degli scontri sociali, ma dall'altra parte dell'assenzionismo potrebbe raggiungere proprio un'unificazione, perché l'assenzionismo di fatto significa delegittimare. Non ti voglio più, non accetto più questo sistema e il passaggio poi allo scontro sociale potrebbe diventare automatico. Andremo a vedere e soprattutto torneremo su questi temi anche nei prossimi giorni. Per il momento io ti ringrazio Viaggio per essere stato con noi, il tuo punto fondamentale anche oggi dunque, ci ritroviamo come al solito domani. Grazie. Ciao Graziano, grazie a te.